Sono partite speciali perché ultimamente abbiamo usato che ci sono partite che sono una figata da giocare, da vivere. Anche questa è una di quelle partite lì, le potremmo chiamare i Dream Matches, anziché Europa League sono partite così belle che fanno parte dei sogni di ciascuno di noi. E attraverso queste partite qui si riesce poi ad avere risposte veramente forti di che tipo di personalità e di qualità hai raggiunto, che a che livello sei per poter giocare un calcio top.